Ragazzi che colpo ha fatto il Milan? Che colpo ha fatto il Milan? Tanti mi piace qua sotto, prima di partire col video iscrivetevi al canale, scaricate BAMFootball perché la prima è per seguire tutto il mondo del calcio E detto questo ragazzi, oggi, oggi, alle 23.59 si chiuderà il calciomercato estivo del 2022 Tanti colpi di cui parlare, però oggi andremo a parlare di un colpo che diciamo mi ha intrigato perché comunque è un giocatore che secondo me è fuori dai radar, non è sotto l'attenzione E' Serginio d'Esta al Milan ragazzi, Serginio d'Esta al Milan e poi mi ha sorpreso talmente tanto la velocità con cui il Milan si è mosso, ha concluso l'affare, ha chiuso il colpo Una mossa intrigante, cioè loro comunque hanno fatto uno più uno, hanno visto l'infortunio di Florenzi e hanno detto Cioè loro secondo me non è che hanno preso un giocatore da mettere lì e a tappare il buco per un mese quando torna Florenzi Loro hanno preso un giocatore che in un contesto come quello del Milan Cioè è un giocatore da Milan Perché il Milan l'abbiamo visto con Tomori, l'abbiamo visto con Carlou, l'abbiamo visto con lo stesso Brian Diaz L'abbiamo visto con Tonali Prende giocatori giovani, se li cresce in casa Ora lo vediamo con De Catteler E ora prende Serginio d'Esta D'Esta penso sia il giocatore giusto da Milan Perché comunque lui è un giocatore, può fare il terzino, può fare l'esterno, può essere un attacco Se c'è bisogno può fare pure il centrocampista Cioè vi rendete conto di cosa stiamo parlando Veramente un giocatore che può fare un po' tutto, no? Duttile E Serginio d'Esta va al Milan Per lui penso sia il contesto ideale Perché Milan è una piazza dove i giovani li sa far crescere, li sa valorizzare E quindi stiamo parlando di un giocatore che al Barcellona All'Igad sappiamo tutti cosa ha dato Al Barcellona forse era una riuscita a esplodere come tutti volevano O come tutti si aspettavano Però comunque non ha fatto neanche male, questo c'è da dirlo Però se va al Milan, attenzione Perché potrebbe rivelarsi una sorpresa clamorosa E potrebbe essere una piazza di lancio, di slancio per il futuro secondo me per lui Perché il Milan lo saprà secondo me valorizzare al massimo Gli saprà dare i giusti minuti Ovvio che il titolare è Calabria Poi non so se lo può giocare pure terzino o sinistro Questo non lo so Comunque c'è a Teo Però anche lo stesso guardando Teo, guardando lo stesso Calabria Può prendere spunto E in un campionato come quello della Serie A Dove adesso secondo me dopo tanti acquisti sta diventando di nuovo un pochino Importante Sta diventando di nuovo importante a livello di nomi Anche perché Serginio Dest e poi Wijnaldum e Paredes e Pogba e Di Maria e Napoli che prendono un belè Cioè stiamo capendo un pochino chi arriva in Serie A Serginio Dest comunque si arriva dal Barcellona Il Milan Cioè ragazzi veramente mi ha sorpreso la velocità di chiudere il colpo C'è andato lì Prima ci ha ragionato attentamente Non è che ci ha ragionato tanto Cioè a lungo Ha fatto quei piccoli ragionamenti che hanno portato a Serginio Dest Poi vorrei dire un'altra cosa Perché questo secondo me lo tengono scontato un po' tutti Ma a un prezzo così Con un presto con diritto Di riscatto A queste condizioni Dove lo trovi? Un terzino last minute da prendere Cioè meglio di così non ce n'è Meglio di Serginio Dest Secondo me last minute Giovane come vuole il Milan Secondo me al momento Non ce n'è Serginio Dest Cioè il Milan fa veramente l'affare Se la pensate così Perché il Milan è abituato a prendere questi tipi di calciatori Dest, Tomori, Calolù Poi li valorizza in casa Li fanno diventare fortissimi Cioè con lui che Manca una lira Gli hanno pagato al Barcellona Sono presentati lì Presto con diritto di riscatto Il Barcellona ha detto Sì te lo do E Dest al Milan Dest al Milan E il Milan che comunque Oltre a lui ha fatto Ha chiuso altri acquisti Sempre però rispettando Questa categoria Ha preso Tio Dallo Schalke 04 Che comunque è Un 2001 Mi sembra Mi sembra che è un 2001 Ha preso Wrenks Ha preso Wrenks Dal Wolfsburg Che è un 2002 Cioè capite la categoria Che il Milan sta seguendo Questa categoria Che però questi calciatori Poi faranno parte In quella rosa futura Faranno parte In quella rosa Tra dieci anni Tra dieci anni Cinque anni Ci pensate Questi tre giocatori Saranno tutti titolari Nel Milan Perché La società L'ambiente Li valorizza E Sono titolari Le andremo Il Milan Sotto questo aspetto Cioè veramente È molto bravo E secondo me È la società migliore Forse in Serie A Perché Allora A livello di mercato Nomi Cioè vuoi parlare Proprio sulla carta Ci sono mercati Migliori No Però il Milan Fa un mercato Cioè intelligente Cioè comunque Che Che magari Sono giocatori Che anche se Li butti dentro Deci minuti Qualcosa Ti mostrano Decathlon Per esempio Il colpo Ma Decathlon Lo conoscevamo un po' Tutti Però Dest T.O Wrenks Cioè Regà Ah io faccio Applausi al Milan Anche perché Fa questi acquisti Che poi si rivelano Sempre Ma Sempre Sempre Acquisti Proprio Giusti Che fanno parte Del progetto Milan Non è che si rivelano Acquisti Dove Sono dei flop Perché se si rivelano Acquisti Dove sono dei flop Beh E niente Comunque T.O È un difensore centrale È un difensore centrale Giovane Che lo metti lì Con Kiert Mori Kalolu Gabbia Ti può servire nel momento Wrenks È un centrocampista Ma il grazie a mal grazie Lui È un'ottima prospettiva È una bella prospettiva Perché ha tanta Qualità È una sostanza In mezzo al campo Non dico Non dico che è un giocatore La che si Però è un giocatore Che mi può ricordare A livello di nome Mi può ricordare Voglio dire È esploso completamente Però ha fatto vedere Qualcosina E se questo qualcosina Lo fa diventare In un'esplosione Al Milan Io non Immagino Quello Che potrà diventare Questo giocatore Serginio Dest Cioè Venete conto Di cosa stiamo parlando Di un colpo magistrale Se devo dare un voto All'operazione Per come sono Monsi Presto con diritto Di riscatto Sono andati lì L'han preso I dai nove Cioè Per come si sono Non lo paghi nulla È comunque Un terzino di prospettiva Se devo dare un voto A livello del calciatore Comunque lui Io non mi soffermo Più di sette Perché comunque Secondo me Non è un giocatore Da otto Perché se è un giocatore Da otto Prende un giocatore Già pronto Lui non è un giocatore Già pronto È ancora un pochino Da formare Però sicuramente È un bel colpo È un bel colpo Alla Milan Per il progetto Milan È un giocatore Che comunque C'è tipo Ricoprire diversi ruoli Un giocatore d'utile Come ho detto prima Può essere veramente Per lui È una rampa di lancio Sicuramente Se c'è una data A pensare Il Milan comunque Fa l'affare E niente Ora Comunque ci sono altri Acquisti di cui parlare Realmente tanti Me ne dico qualcuno Qua Ma poi ci farò Dei contenuti a parte Oppure farò L'ultimo contenuto Di top 10 trasferimenti Per completare la serie E facciamo così Facciamo un video a parte Poi quando chiude Domani Tipo quando è chiuso Il calciomercato Facciamo un riepilogo Veloce E ve lo porto sul canale Comunque detto questo Lasciate un mi piace Qua sotto Scaricate Onefootball Come sempre Per seguire Tutto il mondo Del calcio Oppure I highlights Trovate Le partite di serie B In chiaro Insomma Cosa volete di più Iscrivetevi Attivate la campanellina Commentate voi Cosa ne pensa Di questo colpo Che ha fatto il Milan Con Serbino E detto questo Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi